Quindi siamo contenti per la prestazione della squadra e per la mentalità che ha acquisito. Grande organizzazione di gioco ma un cassano stratosferico, l'arma è più bella. È un'organizzazione di gioco, se ci metti giocatori che hanno caratteristiche importanti, che si sacrificano anche perché non è stato solamente un giocatore oggi che si è prodotto in assoli, anche lottato, è stato anche a marcare l'uomo, sugli aggianti più in un tempo se lui e i pazienti ha fatto partita. E quindi penso che la loro mentalità deve essere questa, a diare le qualità che hanno, perché dubbiamente siamo contenti di averli, però bisogna lavorare anche da squadra, loro hanno fatto molto bene oggi, sì, hanno un'università di amare. La sua squadra è sempre in grado di scrivere una pagina importante in termini di scelta di calcio italiana? Prima partita dice che abbiamo vinto ben trattamente, siamo molto contenti, c'è da lavorare sempre molto, da stare attenti nel campionato molto lungo, molto difficile. Noi siamo contenti dei nostri tifosi, aspettavano una squadra che fosse queste caratteristiche che noi stiamo cercando di dargliela, con i tempi giusti e con le difficoltà che magari sicuramente incontreranno in futuro. Anche Semmioli ha disputato una grande partita, fu arrivando in settimana? Beh, ma l'ho cresciuto io, Semmioli, quattro anni, pensa che non da stare con dove poteva giocare, l'ho preso sul sicuro, era un usato, tendenzialmente ha avuto, ma sul sicuro perché il suo ruolo l'ha fatto molto bene, sapeva come muoversi, quindi è uno che si può dire che ha lavorato con noi già da giugno. Quindi grande soddisfazione per aver vinto su uno dei campi più difficili d'Italia? Eh beh, certo, le difficoltà sì, perché mi sembra che le difficoltà di vincere a Catania sono molto difficili, molto importanti. So che Catania, come tante squadre, si lottano per la salvezza, per il risultato finale proprio in casa. Vincere la prima non era semplice, perché anche Catania ultimamente, negli ultimi anni, ha sempre vinto la prima forse in casa. E quindi io penso che è soddisfazione nostra, aveva tutta una squadra che farà sicuramente bene per i giocatori interessanti e anche una conferma che quello che stiamo facendo è la via giusta per ottenere buoni risultati. Il presidente De Carvali ha detto 20 minuti in cui la Sandorio c'è stato superiore e poi equilibrio, è d'accordo? Ognuno vede il calcio come vuole. Grazie.